Insieme al collega consigliere Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto abbiamo deciso di unire le forze in questa battaglia per la difesa di Taranto contro le favole, contro le ipocrisie che l'amministrazione Melucci sta propinando alla città. C'è stato ieri l'incontro al Ministero, Melucci ha avuto il barbaro coraggio di parlare di una data storica, di un momento storico, fantasie perché lo ha detto espressamente l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli, l'aria caldo continua a rimanere in piedi con tutta una serie di aggravi, rigassificatore, riapertura del cementificio. Insomma Massimo qui si sta giocando sulla pelle dei cittadini, si stanno raccontando favole, favole che poi non hanno una concretizzazione e poi questo accordo di programma, io forse sarò limitato ma non ho ancora capito cosa significa accordo di programma, per me questo significa solo una presa per il culo nei confronti dei cittadini. Condivido ciò che dici Luigi, il sindaco continua a prendere in giro un'intera cittadinanza, quel mondo ambientalista sano che è rimasto perché voglio ricordare, vorrei che oggi quel gruppo di ambientalisti che siede nella maggioranza del comune di Taranto prenda posizioni perché come abbiamo sempre fatto Luigi noi parliamo con le carte, questo è il documento ufficiale di ieri del sindaco che ha parlato di giornata storica, basta andarsi a vedere al punto numero uno cosa dichiara il sindaco nonché presidente della provincia, basta vedere i simboli comune di Taranto e provincia, il sindaco dice al primo punto piano industriale e manutenzione urgenti a transizione tecnologica dello stabilimento siderurgico. Questo significa continuare a produrre, chiariamolo Massimo, significa che non c'è alcuna chiusura dell'aria a caldo, quindi Melucci quando parla vuol far capire, vuol far intravedere la chiusura, chiusura non c'è perché lo dice lui espressamente, ma è bello giocare sull'equivoco. Al punto quattro parla di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, quindi anche qui significa riesame per continuare a produrre e modificare quello che lo scempio fatto nel corso degli anni per questo stabilimento. Al punto otto parla Tecnopolo del Mediterraneo e strategie di decarbonizzazione, ancora noi non abbiamo capito cosa si intende per decarbonizzazione, come hai detto tu prima all'inizio, decarbonizzazione significa continuare a produrre con i forni elettrici e con l'aria a caldo. La Morselli è stata molto chiara, ha detto anche se ci sarà questa fantomatica, questa ipotetica decarbonizzazione, l'aria a caldo continuerà ad esserci e ha sbentito Melucci, ora Melucci si ha il coraggio rispondesse alla Morselli. E poi l'ultima e non meno più grave di quello che abbiamo detto, ricordiamo noi quando parliamo sempre con i documenti, guardate qui firma Rinaldo Melucci, all'allegato F, guardi qui, il sindaco dice ad una prima presunta mappatura dell'arretramento fisico dello stabilimento. Arretra? Arretra? Cosa mettono? Le rotelle allo stabilimento? Allora se la città vuole essere continuata, essere presa in giro, mi rivolgo a quel mondo ambientalista sano, non politicizzato, perché vorrei ricordare a tutti, sempre con documenti alla mano, la settimana scorsa abbiamo fatto un consiglio comunale sulla questione ILVA, dove c'erano tre emozioni, il mondo ambientalista li ha ritirati, il mondo ambientalista presente in consiglio comunale che sostiene Melucci, dove da un lato si chiede nazionalizzazione e arretramento dello stabilimento, gli stessi ambientalisti che sono presenti in quella maggioranza il giorno dopo hanno sottoscritto un documento dove dicono che non si può nazionalizzare, quindi Luigi qua si continua a prendere in giro la città. Ma la cosa più grave è, innanzitutto l'abbiamo detto prima, il discorso dell'arretramento ha qualcosa di ridicolo, perché vorrei vedere come si può concepire questo arretramento, come se fosse un giocattolo, la vela con cui Melucci propinava lo stadio, si sposta, si mettono le rotelle e cammina. Ma poi ancora ci sono delle situazioni ancora più gravi, la Morselli ha parlato espressamente come detto che l'aria a caldo non si chiude, la Morselli ha parlato della necessità di realizzare un rigassificatore, di riaprire il cementificio, di una produzione che nel 2023 arriva a 4 milioni di tonnellate, nel 2024 a 5, ma di cosa stiamo parlando? Questa è produzione allo Stato puro, produzione che uccide. Secondo me ha detto cose, in aggiunta a ciò che dicevi tu, ha detto cose gravissime, ha detto che il rigassificatore è già su un buon punto di comune accordo con il porto di Tardo, vorrei ricordare che nel porto di Tardo, nell'autorità portuale, c'è l'omino messo lì dal comune di Tardo, da Rinaldo Melucci. In ultimo la Morselli ha detto una cosa gravissima, che stanno usando alcuni impianti dello stabilimento per bruciare la plastica, di comune accordo con la regione, se così non fosse il presidente Michele Emiliano che smentisse queste notizie che ha dato l'addetto dello stabilimento Ilva, Lucia Morselli, perché sono cose gravissime Luigi. Ma ora io invito, anzi invitiamo il sindaco Melucci davanti a queste frasi della Morselli, lui cosa dice? Tace? Perché Melucci quando sta a Taranto fa il galletto, tra virgolette, poi arroba davanti a queste frasi della Morselli, dona Roma comunque a distanza, quello che sia, stranamente tace. Allora, ci sono due posizioni, l'amministratore delegato che dice industrializzazione a go go, la Morselli dice questo, e dice non si chiude l'aria a caldo, e Melucci con l'altro aspirante candidato sindaco futuro Mattia Giorno, il quale parla, Mattia Giorno, anche lui di data storica. La data storica cos'è? Che Taranto si deve continuare a condannare a morte Taranto? Questa è la data storica? La data di certificazione di morte di Taranto? Luigi, ma al di là di quello che dice l'ha detto Morselli, io prego a tutti, e adesso forniremo documentazioni dove siamo in possesso entrambi, qui c'è la firma di Rinaldo Melucci, guardate qui, c'è qua parla di arretramento, di decarbonizzazione, di nuovo piano industriale, che è la continuazione di quello... Quell'assessore Marti che oggi ha dichiarato giornata storica, quell'ambientalista sano che si è battuto in questi anni, ma di che cosa state parlando? No, noi preannunciamo, ora questa è stata giusto una risposta caldo perché sinceramente il sangue ti ribolle dinanzi a queste affermazioni, ma a brevissimo convocheremo una conferenza stampa in sede istituzionale perché dobbiamo fare chiarezza su questa vicenda perché si stanno raccontando favole a danno dei cittadini. Allora invitiamo il mondo ambientalista, che poi sarà quello sano, quello non sano, a sentire, ad aprire gli occhi, a sparancare i padiglioni auricolari perché ci sono delle contraddizioni in termini, contraddizioni che sono... Da un lato tu stai parlando Melucci di data storica, di decarbonizzazione, poi continui a parlare di produzione con la Morselli che ti dice resta l'aria caldo e il finimondo qui... Per chiudere, Luigi, ho sentito anche le parti sociali, ho sentito, ho visto i video lì, ieri chi si è presentato a Roma, ieri c'è stato uno sciopero e ho sentito qualche segretario che parlava di presi in giro da parte del sindaco e del presidente della regione. Voglio ricordare le parti sociali, che questo ve l'avevamo già pronunciato il 6 ottobre quando è stato firmato quell'accordo scapestro, è che il sindaco continua a giocare, a stare con due piedi in una scappa che definisse i suoi progetti futuri per quello stabilimento e realmente cosa vuole da questa città. Ma Melucci oramai è completamente piegato sulle posizioni di Emiliano, quindi sta lì perché deve dire, deve recitare la parte. Quindi questa è una solida alleanza che si sta costruendo, che si è costruita perché bisogna fare un'operazione verità a Taranto. C'è un minimo comune denominatore forte che è quella della battaglia ambientale e allora anziché disperdere le forze è opportuno unirle.